Il Rimini torna in campo a distanza di quattro giorni dopo l'ultima vittoria interna con l'Argentana. Milano Marittima è terra di turisti, ma il Rimini desidera oltre alla prenotazione acquisire terreno, divertendosi e regalandosi l'ennesima vittoria in stagione. Sulli spalti c'è area di curiosità attorno alla capolista, anche se a Di Libero sia in tribuna centrale che nel settore ospiti, i tifosi biancorossi riempiono in gran numero lo stadio Todoli. Ricchiuti parte dalla panchina, in avanti fiducia a Buonaventura e Valori, con quest'ultimo subito protagonista quando dall'angolo di Lighini riesce ad arrivare al tiro, con la difesa locale, che allontana il pallone sui piedi di Gabrielli, il quale chiama al primo intervento del match Braggione. Sempre dalla bandierina, biancorossi nuovamente insidiosi quando Lighini chiama l'attenzione Braggione, con la sfera che termina sui piedi di Valori, ma ancora una volta viene immurato dalla difesa giallo-blu. Bacchiocchi dalla distanza mostra l'embrema dei Rimini, pericolosità uguale allo zero. Dall'ennesimo calcio da femmo battuto da Lighini, blividi in area locale con Braggione, che anticipa Cola che nell'occasione si fa male, costretto successivamente ad abbandonare il campo portato fuori dall'equipe medica, segno di incoraggiamento per l'ex Sant'Arcangelo da parte del trainer Mastro Nicola, e si riprende con l'ultimo tentativo di un opaco primo tempo che arriva da Arlotti, ma il tiro cross viene deviato in corner dalla difesa di casa. Nella ripresa a Cola si aggiunge Bacchiocchi, costretto a lasciare il campo per noi muscolari, ma il Rimini alla prima occasione passa. Arlotti innesca lo sprint sulla fascia, mentre al centro, dove c'è un velo di un giocatore biancoroso che scaturisce il perfetto inserimento di Buonaventura che da due passi centra il sedicesimo gol in stagione tra l'abbraccio dei compagni e di Adrian Ricchiuti, che nonostante la panchina odierna è il primo ad applaudirlo, sinonimo anche questo di gruppo coeso e di squadra fortissima. L'Assallotti Buonaventura si ripete poco dopo quando il ragazzo di Coriano pennella al centro dell'area di rigore e il pennello cinghiale chiamato Buonaventura di testa chiama la presa Braggione. Cicarevic è intanto per l'appunto a posto di Bacchiocchi, 60 secondi più tardi cerca la via del gol. Numero di alta scuola, ma la retroguarda del locale chiude, mentre dall'altra parte Candoli spara alle stelle. A far dimenticare la concursione sbilenca al compagno ci pensa Sov, che su una leggerezza di scotti trovata gratuitamente nel percorso chiamato campo, quasi quasi beffa il buon Francesco, che oltre ad essere santo di nome sulla linea di porta dimostra di avere diversi discepoli a falli da guardia. Via dunque a San Brighi. I rimini affondano nuovamente, cambiano gli interpreti, Signorini vola sulla farsa, Valore arriva alla conclusione, ma sulla strada c'è la deviazione di Severi a negare la gioia del gol all'ex San Pierana. Punizione di Righini, Braggione la presa, si reca qualche brivido da solo. Fidone nel frattempo fa le prove del gol, mentre Domini riscalda i guantoni a scotti con una punizione telecomandata. Alla mezz'ora, proprio ne è entrato Fidone, si inventa una cannonata pazzesca che sbatte sulla traversa, con l'arbitro ingannato da una deviazione di scotti che in realtà non avviene. Domini, da calcio piazzato, prova ad imitare il padre, ex Brescia e Cesena, ma la sua traiettoria viene sporcata dalla barriera. Quando sembra esserci il preludio al secondo gol, ecco che Valeriani sulla farsa mette al centro un tiro cross, più tiro che cross, dove il buon buon avventura batte la testa ma non inquadra il mirino. Ma lo stesso attaccante, in pieno recupero, mette Valori nelle condizioni di andare in rete, ma sul pallone scatta anche Signorini, che anticipa il compagno, va alla conclusione, Brajone respinge proprio sul piede caldo di Valori, che spedisce alto. Ma tutto questo non causa nessun danno. I tifosi si alzano in piedi a triplice fischio finale, tutta la squadra si reca verso la parte più calda della tifoseria per salutare e ricevere i meritati applausi. Se Milano Marittima doveva essere terra di gita di semplice vacanza, per il Rimini è divenuto, visto la sconfitta del Sasso Marconi, più di un passo verso la Serie D. E se da queste parti un tempo si celebrava i reality campioni, il Rimini ha raccolto degnamente tale attributo.